Robert Walser è sempre stato un nomad e camminatore anche quando abitava in città o quando stava in campagna e poi anche quando è stato in manicomio. La questione è che io non leggo il tedesco abbastanza bene da seguirlo nei suoi estri di camminatore perché anche quello è un estro nel camminare e quindi l'ho sempre letto in traduzione italiana, è stato tante volte che mi sono messo a tradurne dei passaggi quando stavo in Germania, ne ho tradutti vari passaggi e poi soprattutto Walser ecco se c'è una cosa che mi attira verso Walser ma purtroppo non riesco a penetrarlo sono questi suoi microgrammi dove evidentemente c'è proprio questa cosa a cui punto, a cui, che è il fatto che nello scrivere si perde lui, si perde e questo perdersi è proprio come un camminare a vanghera, un camminare a vanghera, andare per sentieri eccetera. L'altra cosa di Walser che per cui, oh Walser tra virgolette che gli sguizzeri non sanno neanche chi è, questi sguizzeri maledetti facciano tutti i soldi che vogliono ma dire Robert Walser chi è Robert Walser? No, ma non sanno chi è Robert Walser, cosa che mi fa incazzare immediatamente, subito. E ciò nonostante insomma volevo dire che c'è qualcosa di molto sano in questo aspetto di Walser, cioè seguire l'andare della penna, perché questi microgrammi sono proprio la penna che si capisce, che lui scriveva tanto in piccolo che per anni la gente ha creduto che fossero scarabocchi e finalmente ci sono stati due che hanno detto no no sono cose, è proprio, sono sue cose che scrive e scrive e va via con la testa e questo andare via con la testa è veramente il parallelo dell'andare a camminare quando si va a camminare d'estate. Poi il fatto che è meraviglioso di morire sulla neve, così tra la neve, questo è una cosa che gli invidio.